Siamo venuti a vedere un posto bello E' un posto bello Ma quale posto bello? Quel posto bello Una casa gialla? No, quella è proprietà privata, molto privata Ah ok Quello marrone Quello edificio ex colonia abbandonata E quello non è privato no Ex colonia abbandonata Ah ok, va bene, perfetto Stai zitto che devo registrare il video, mano Show me how to feel Under your control Everything is real So hit me So hit me Hai incontrato dei simpatici cagnolini, vero? Sì, bellissimo Molto simpatici Comunque non siamo soli ragazzi Cosa c'è, cosa c'è, chi è, chi è? E non lo so, qualcuno prima è salito Eh ma è una montagna, è normale che c'è una persona che camminano Eccolo, eccolo, eccolo Chi, chi? Guarda, guarda Ho un Un pericolo Un pericolo pubblico Un losco figuro So hit me Teach you a lesson Whatever you say Go I'm under your control So hit me For the remainder You are about to get chained up If ever you feel you're in danger Un pericolo pubblico Grazie a tutti. 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 Io ho un po' di paura. Non si metta fuoco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Possiamo notare che qui sul pavimento c'è della cacca di cabra. Ciao. Non si capisce perché? Siamo al piano di sopra. Ci sono tante belle stanze. Ma non si capisce perché? Hanno concimato il tempo. Al secondo piano. E' un po' diarsia. E' un po' diarsene. E' un po' diarsene. Allora No, non leggiamo Che belle queste stanze qua Ma ascolta, ma se perché la sede dell'associazione non la facciamo Ma guarda qua anche Arte di questo nuovo stile moderno per le porte Questa è l'applicazione dell'arte minimal Nelle serrature delle porte Vedete c'è un pezzo di segno Sono, però aria hanno la casa c'è da dire È tutto areato, non bisogna neanche aprire finestra E poi il problema è che non si può uscire Però per il resto è perfetto È bello, è bello, mi piace E poi l'importante è concimare È concimare, l'importante è concimare tutto Questo si chiama pavimento letal Letal E saliamo Sali prima tu Aspetta, mi da Uno alla volta Sì, però fa schifo Cioè, parli bene almeno il graffiti Quello là è carino Sì, pavimento che c'era all'origine All'interno dell'edificio Vedete che bello questo graffito Che è uno dei pochi belli Che ci sono Nella struttura Ce n'è uno anche qua Molto bello questo Ecco, guarda Questo è un quadro del 200 Molto bello Devo dire Raffigura un uomo Nella sua Nella sua estasi Nel suo stato Di estasi Quadro È multimediale Guarda Io schiocco le dite Cambia 3, 2, 1 Ecco, vedete È cambiato il quadro È una cosa Se ti fai di gestaci Tipo così Sarrabbia Facciameli vedere Ecco, gli facciamo il dito Sarrabbia Tanti quadri Questo dà Sì, davvero Vediamo al prossimo È scarso Vediamo Quella più grande Di qua Guarda Questo qua è grande Stavate un ritratto Di quelli Oh, che bello Peccato che Sti vittori Qua Ti disegna tutto Contro Ciao Ciao Quadro Vogliamo far notare Il pianerottolo Delle scale Vedete È un pianerottolo Ello resistente E c'è scritto piano Perché Sembra veloce Perché sono fatti Ho capito Una cosa Adesso Magari Quando gioca Non so No Sai perché Mi imposto Le finestre Sì 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 Direttamente Da Telecomando Fail Che cazzo fa? Fail in diretta Vida ma Non riesco a ridere con l'arga Dici che si è fatto due cose? No Questo video sarà clickbaitissimo Eh? Boh è sbroccato Non l'ha mai fatto Eh? Ma no Non dovevi Eh lo devo Si vive una volta solo No Ti faccio un po' La situazione Scraggio Si è inutilizzato Vida Sei riuscito a schiantare Il breve nuovo Non va bene No dai Non pubblica sta roba per favore La telecamera è l'importante La gimbal è buona Ma perché il gimbal è riportato Cacchio Sono partito Non ho capito Si è fatto qualcosa? No la struttura è perfetta Meno mai Non ho capito però come è possibile Dove eravamo noi là? Sì Noi eravamo là Non ho capito come mai ha fatto sta roba Cioè in teoria lui quantomeno col vision doveva star fermo Non comincia a sbroccare da dove voleva Bello Molto bello Ci vorrebbe un pasto Un pezzo di asa La volta prossima ci lo recuperiamo Da qualche parte È in teoria Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.